Come andranno a finire le LinkedIn Stories? Come Instagram o come Whatsapp? Buongiorno, sono Mario Moroni e benvenuti al Caffettino. Oggi parleremo davanti alla macchinetta del caffè di come andranno a finire le LinkedIn Stories. Chiaramente sono uscite da pochissimo anche in Italia e la domanda è lecita. Finiranno come quelle di Whatsapp o finiranno come quelle di Instagram? Quando escono le Stories dopo l'avvento di Snapchat, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Whatsapp e anche chiaramente ora di LinkedIn, quando arrivano all'interno della piattaforma e escono sul mercato c'è sempre grande entusiasmo tra i Fantaguru, gli Adopters, ovvero le persone che adottano prima le novità e poi tendenzialmente scemano come accade appunto su YouTube eccetera. Rimangono sempre e solo quelle degli influencer, già dello stesso social perché le utilizzano, perché hanno una community e perché hanno un database. Ma nel caso di Whatsapp Stories, sì, rispondo alla vostra domanda, Whatsapp alle Stories, c'è un comportamento strano. Lo spiegavo oggi a uno dei guerriere all'interno del nostro gruppo Telegram, tra l'altro se volete entrare Mario Moroni Canale, entrate da lì e ci conoscete anche a tutti all'interno della community, le Whatsapp Stories per me hanno un elemento essenziale, cioè il fatto che le persone che seguono le Stories del mio numero di cellulare sono persone che sono clienti, imprenditori, businessmen, persone con cui sono già in contatto e che talvolta non guardano le Stories su Instagram, non guardano le Stories da altre parti perché tendenzialmente o hanno poco tempo o non lo gestiscono chiaramente guardando le Stories e quindi andando a prendere le persone da lì, persone così importanti, nel loro tempo libero vedono le mie Stories e riescono a recuperarmi e quindi chiaramente mi scrivono direttamente su Whatsapp, chiacchieriamo, insomma è un elemento importante, io non le sottovaluto assolutamente quelle di Whatsapp, anzi le reputo anche molto più importanti rispetto a quelle di Instagram dove c'è un pubblico per me molto più generalista, dedicato alla radio, dedicato al libro, eccetera, eccetera, e talvolta non proprio per fare business diretto. La domanda è questa, avranno lo stesso comportamento, cioè le persone che guardano le Stories di LinkedIn lo faranno per perdere tempo oppure lo faranno per informarsi, lo faranno perché c'è un contenuto in più o saranno le stesse identiche Stories che trovano da tutte le parti e poi ancora, insomma, da desktop verranno visualizzate o verranno visualizzate solamente da app e quindi chiaramente in orari in cui magari su LinkedIn non ci andavano e invece a questo punto ci vanno in sostituzione di Instagram e degli altri canali. Domande a cui è difficilissimo rispondere oggi, ma la cosa sicura che per noi imprenditori e professionisti è necessario capire che bisogna testarle, bisogna provarle e bisogna utilizzarle cercando il più possibile di adattarle allo strumento LinkedIn. È chiaro che la risposta di Microsoft di inseguire di nuovo, purtroppo, Facebook e compagnia, insomma, speriamo che sia una boot ad corretta e non un estrema razio per di nuovo andare a prendere più pubblicità, più utenti, generalisti e quindi più fuffa in generale. E con questo concludiamo il caffettino di oggi. Vi ricordo che, chiaramente, giovedì è già Giove e oggi è questa sera all'ora 18, c'è live show su tutti i social, anche su LinkedIn. Mi raccomando, fate i bravi, ci vediamo dopo in diretta.